1266 40 anni dopo la morte del poverello d'assisi l'ordine francescano è lacerato dalle divisioni interne bonaventura da bagnoreggio in qualità di ministro generale dell'ordine ha completato da poco una nuova biografia di san francesco durante il capitolo di parigi si decide che la sua opera che passerà la storia come leggenda mayor dovrà essere la versione ufficiale per questo motivo lo stesso bonaventura intima di distruggere tutti i documenti esistenti sulla vita di francesco e di cercare frate leone l'ultimo sopravvissuto fra i diretti seguaci del santo un'apostata che vaga tra i boschi in preda al delirio e che minaccia il buon nome nell'ordine con le sue parole dissennate incaricato della missione è il giovane amanuense fradeodato segretario di bonaventura che tuttavia non ha il coraggio di distruggere i documenti e decide di trasgredire agli ordini dei suoi superiori salva dalle fiamme i manoscritti apocrifi e intraprende un lungo viaggio per trovare leone che ormai vecchio e forse annebbiato dalla pazzia gli racconterà la sua versione dei fatti un'avventura tra le strade d'italia tra polverosi manoscritti che si trasformerà in un pellegrinaggio impossibile alla ricerca del vero francesco dell'uomo che si cela all'ombra del santo vite apocrife di francesco d'assisi è un romanzo suggestivo che ci offre una rilettura insolita e provocatoria della figura del santo per mostrare quei meccanismi che seppelliscono la verità sotto racconti diversi e testimonianze necessariamente parziali una versione inedita e originale della vita di san francesco restituita con notevole maestria sullo sfondo di un appassionante contesto storico oggi parliamo di vite apocrife di san francesco di massimiliano felli allora comincio subito col dire che non sarò di parte massimiliano lo conosco sin da quando sono bambino diciamo che siamo del dello stesso paese originari dello stesso paese abbiamo fatto teatro nello stesso teatro con due compagnie diverse e quindi diciamo che ci conosciamo quindi alzo subito la mano e metto a nudo i miei conflitti di interesse su questo libro quindi lo diciamo subito intanto ciao massimiliano se vedrai questo video ti saluto non ci sentiamo da parecchio parlando di san francesco per chi non l'avesse visto avevo fatto un video tempo fa in cui parlavo appunto di san francesco san francesco è uno dei miei personaggi preferiti perché ho interpretato anni fa in un musical il suo personaggio quindi cantando e sono particolarmente legato a questo personaggio particolarmente legato perché ho scoperto poi negli anni che mio nonno che io non ho mai conosciuto che si chiama roberto come me era un fan sfegatato di san francesco e quindi lui quando andava ad assisi mi racconta mia madre che lui perdeva completamente il senso del tempo e si fermava a meditare e preferiva stare insomma da solo per ascoltare probabilmente la sua voce interiore rimaneva insomma estasiato ogni volta che andava che andava lì quindi c'è un legame insomma con questo personaggio molto profondo molto profondo san francesco mi è sempre piaciuto per il fatto dell'abbandonare la materialità per dedicarsi esclusivamente alla spiritualità è quello che cerco e sempre cercato di fare io nel senso di allontanarmi molto da dalla materialità nel senso di non attaccarmi agli oggetti di non essere posseduto dagli oggetti ma di di usarli per un fine per un obiettivo e non appunto nel perdermi attraverso questi oggetti quando san francesco abbandona i propri vestiti questo è un gesto che a me ma sempre ma sempre veramente colto colto nel profondo io sono un tipo che non ho mai comprato mai comprato i vestiti per me direte che vuol dire cioè quando ero piccolo andavo con mia madre a comprare i vestiti e in realtà era lei che decideva appunto come vestirmi stessa cosa da adolescente non ho mai ricercato marche o cose particolare sempre perché appunto mia madre ovviamente mi ha mi ha dato questi valori nel senso che non sono mai stato attaccato appunto a queste cose tuttora io non compro vestiti me li comprano gli altri o comunque mia moglie santa anche lei quando va da qualche parte compra per lei e compra anche per me e io non ho bisogno né di vederli né di provarli perché in realtà a me va bene tutto e ricevo anche vestiti da altre persone che magari fanno un cambio di stagione o un cambio totale di look levano i propri vestiti e me li regalano io li accetto prendo questi vestiti quindi se mi vedete in giro vestito è perché è grazie a tutte le persone che mi stanno intorno altrimenti io non li comprerei mai comunque va bene togliendo questa piccola parentesi il libro il libro secondo me è eccezionale cioè cioè per me la storia di san francesco è questa non c'è la storia quella che leggete nei libri che leggete in qualsiasi cosa che appunto buonaventura da bagnoreggio ha fatto diciamo trapelare secondo me non è vera cioè è vera questa cioè questa è più plausibile perché secondo me massimiliano a parte lo dicono insomma tutti quelli che l'hanno letto che che l'hanno recensito ha un'arte proprio nel prendere appunto i materiali storici effettivi quindi quelli che storicamente sono arrivati fino a noi riesce a testa riesce ad essere una trama plausibile quindi reale cioè per me la storia di san francesco ripeto è questa questa è più plausibile rispetto alla storia che che è filtrata ed è arrivata fino a noi massimiliano ho letto anche un altro libro che adesso vado a prendere aspettate il primo romanzo letto di massimiliano è questo qui il velo davanti agli occhi che è la storia di un di un commissario è un noir insomma una serie di libri e dopo aver letto questo ho voluto comprare anche gli altri ancora non l'ho comprati ma provvederò al più presto e appena saputo che massimiliano aveva scritto un libro san francesco l'ho comprato immediatamente il giorno appresso ringrazio anche il mio amico emiliano sampei per gli amici che me l'ha subito diciamo segnalato non voglio spoilerarvi nulla assolutamente del libro perché è appena uscito ovviamente e quindi rimando a voi la lettura e la vostra analisi o comunque quello che è non sto qui a fare analisi niente perché c'è il video nasce perché appunto san francesco è un personaggio che a me proprio piace da morire e questo libro restituisce a san francesco un'umanità un qualcosa che esula appunto dal santo e quindi la storia veramente intensa veramente esilarante a tratti personaggi dipinti in maniera spettacolare una cosa ecco che che ho trovato veramente eccezionale la figura di santa chiara che in tutte le storie di san francesco è sempre una figura marginale in questo caso secondo me santa chiara acquisisce la figura proprio principale quasi del della vita di san francesco e all'interno del romanzo appunto la figura di santa chiara è resa è resa molto umana molto come come tutta quei tutti 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 diciamo i personaggi che ci sono all'interno e le contraddizioni che nascono appunto in seno dell'ordine francescano e e questo appunto rende rende chiaro se ancora non è tanto chiaro in realtà ancora adesso che la storia viene scritta da chi in realtà appunto vuole scriverla si dice che la storia la scrive la scrivono i vincitori no e questo romanzo dà questa chiave di lettura questa storia nascosta che esce fuori grazie a frate odato questo frate che rimorso dalla coscienza di dover bruciare appunto i manoscritti vecchi della storia di san francesco intraprende questo viaggio incontra frate leone frate leone attenzione anche qui lui personaggio veramente secondo me eccezionale eccezionale un romanzo un romanzo da da leggere sicuramente acquistare acquistatelo leggetelo fate recensioni fate fate qualsiasi cosa perché veramente secondo me massimiliano insomma ripeto conflitto di interesse alert però massimiliano uno scrittore che merita assolutamente insomma di essere letto di essere letto e quindi niente questo vite apocrife di san francesco di massimiliano felli ve lo consiglio compratelo e leggetelo fate leggere tutti quelli che vi stanno intorno perché leggere secondo me quello che cerco di portare anche nel mio canale quindi quello che faccio leggere la cosa più importante una delle cose più importanti che ci stanno leggere apre la mente apre il mondo apre l'universo a mondi estranei a cose che magari nella vita non affrontiamo magari in un libro invece troviamo quello che che magari ci dà quella sorta di visuale diversa rispetto a quello in cui siamo abituati quella bolla in cui ci chiudiamo quindi vite apocrife di san francesco di massimiliano felli grazie di aver visto questo video se vuoi condividilo mandalo su tutti i tuoi social anzi più lo condividi anche se non ti interessa lo puoi condividere perché magari interessa a qualcun altro e quindi mandi avanti tra virgolette un qualcosa che magari a non va ma qualcun altro che ti conosce sì quindi grazie per aver visto andate su tutti i social che ci sono sotto a questo link insieme al mio amico gianmarco ricordo che facciamo un podcast che si chiama menti supposte abbiamo anche un gruppo telegram quindi sul cellulare dove potete venire a farne parte parliamo insomma dei podcast che abbiamo appena messo e parliamo un po di tutto insomma quindi se ti va vai condividi e vai alla grande ciao alla prossima ciao